Continua a far discutere l'ecomostro sul lungomare di Siderno. L'ultima novità, le nove persone finite nel registro degli indagati per la realizzazione della costruzione in un'area con vincolo paesaggistico. L'edificio, in cemento armato, da 5.300 metri cubi per una superficie di oltre 16.000 metri, sarebbe stato costruito in assenza del prescritto nulla ossa paesaggistico. I lavori del grande fabbricato, destinato a struttura turistico-ricettiva, iniziati a luglio del 2010, sono tuttora in corso. Il fabbricato, infatti, non è stato ancora completato, essendone stati realizzati soltanto 1.000 metri quadri. L'indagine, condotta dal sostituto procuratore di Locri Ezio Arcadi, è scattata a seguito di un'informativa che i carabinieri del Nucleo Ambiente di Cosenza hanno depositato a dicembre del 2015. Per tutti e nove gli indagati, l'accusa è quella di avere, nelle rispettive qualità e funzioni, agito in violazione alle norme di legge che fanno di vieto di rilasciare autorizzazione all'edificazione in zona vincolata in assenza di preventiva nulla ossa e di avere, così, intenzionalmente procurato alla società un ingiusto vantaggio patrimoniale con corrispondente danno degli enti pubblici comune di Siderno, provincia di Reggio Calabria e Regione Calabria.